Cari amici italiani, buonasera, sì perché qua in Nova Scozia sta venendo buio, di fatti c'ho questa luce blu su questo lato, non è un riflettore, è proprio che fuori c'è la neve e la notte diventa blu e la neve riflette blu, fotograficamente parlando. Cari amici, ciao, quando parlo in italiano, tra l'altro spero di non avere slurfoni in italiano, di non fare sbagli in italiano perché non parlo in italiano più tanto spesso, quindi se parte qualche rima inglese non fateci caso, ok? Lasciatelo andare. Cari amici, questa sera, molto probabilmente domani mattina, presto, qui in Nova Scozia, il mio profilo Facebook va giù. Ho fatto un video con alcune considerazioni filosofiche, la filosofia, lunedì scorso, cos'era, il 25, che giorno era, non me lo ricordo più, e qualcuno, Elisabetta, Carlo, Uluccio, mi hanno detto, Belin, ma, diciamo, guarda che non, sì, ti capiamo, però poi se lo fai in italiano è meglio Andrea. Poi qualcuno, ma anche pure ha risposto su Facebook in dialetto e mi son detto, Belin, quasi quasi, a che fa sul discorso in dialetto d'Arbenga? E non so se è d'Arbenga, se è in mescia iso between Succarello, Arbenga e Villanova, non lo so. Poi ho detto, ma no, dai, facciamoglielo in italiano che così almeno evitiamo brutte figure. Però se riesce ne faccio anche in dialetto, per quelli che parlo dialetto. Quindi, me ne vado da Facebook, lunedì scorso il profilo Twitter è andato giù, il mio profilo Twitter. Un anno e mezzo fa chiusi WhatsApp, non sapevo che avrei chiuso Facebook, ma ho cominciato, poi ho chiuso WeChat, il air cinese, un anno fa. Mi dispiace per WeChat, ho perso un sacco di amici, no, di amici, gli amici rimangono, perché lì non cambiano mai, gli amici veri rimangono sempre. Perdi i contatti, poi ti ritrovano, ci si ritrova su un'altra piattaforma. Ed è per quello che parlo oggi, perché vi dirò su quale piattaforme vado e dove mi troverete. Anzi, lo faccio subito. Ci sono due piattaforme indipendenti dove c'è libertà di parola, dove non c'è censura, che sono diventati un tintinino pesantucci da parte di Mark e di Jack, e anche altri, no, Jeffrey, Sergei, tutti questi bei technocrati della grande IT, Information Technology. Bene, non sono più i miei valori. La libertà di parola è per me un valore fondamentale, la libertà di espressione è fondamentale, non esiste la censura nel mio universo, quindi quando qualcuno fa censura, qui l'universo per me muore. Quindi muoio a Facebook e probabilmente non riesco a dire le stesse parole come le ho dette in inglese, perché veramente quando parlo in inglese, devo essere sincero, penso in un'altra maniera, uso letteralmente, non sto scherzando, uso letteralmente un'altra parte del mio cervello, perché ho imparato un sacco di cose in quel linguaggio, quando le metto insieme, credo che la mia capacità innovativa in inglese sia molto maggiore della mia capacità innovativa in italiano. Non so se mi spiego, ma spero di sì. Quindi non provo a ripetere quel dialogo che ho avuto una settimana fa con tutti i miei amici inglesi, ma provo a dire gli stessi concetti con qualche aggiunta oggi in italiano ai miei amici italiani, che se siete miei amici italiani molto probabilmente siamo veramente amici, nel senso che ci siamo veramente conosciuti in carne ed ossa da qualche parte, veramente, perché oggi avevo 5.000 amici su Facebook, ma veramente quanti ne ho incontrato davvero? Non credo di aver incontrato 5.000 persone, ma però li chiamiamo amici di Facebook, invece proprio quelli italiani molto probabilmente ci siamo veramente incontrati, abbiamo veramente riso o pianto insieme, o ci siamo cartellati, non lo so, magari. Muoi a Facebook? E alcuni mi hanno chiesto, ma no, come fai? Prima di tutto non credo di essere unico, credo che tantissimi l'hanno fatto, lo stanno facendo e lo faranno, per tante ragioni, ma credo che quello che è utile, la connessione che ho fatto su quel mio video in inglese, è il concetto della morte, la morte, la nostra morte o la morte dei nostri cari, l'ho vissuta molto recentemente molto da vicino nella nostra famiglia, mio padre ha perso la sua compagna e si fanno i conti con tante cose, no? Poi stai vicino a coloro che ami e la morte è un concetto che non è facile da capire, però è un concetto che forse per capirlo bene e bisogna veramente capire cos'è la vita, la vita con la V, quella grande, la vita, quello che fa vita. E io credo che capire e venire a termini con la nostra morte, la morte fisica, la morte di Guido Furlani o Guido Furlani se mi chiamano in inglese, come la morte dei nostri cari, ci aiuta a processare, ci aiuta a trovare il coraggio. Credo che per fare tante cose importanti nella nostra vita dobbiamo avere il coraggio, il coraggio di guardare in faccia ciò che non ci piace, ciò che ci piace e decidere in quale direzione andiamo. Secondo me oggi fare i conti con la morte, il concetto filosofico della morte, la paura della morte, le paure che la morte porta con sé. e fermarci, non cercare di fermarsi, non di continuare presto, 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 no, 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 non pensare, non pensare, no, 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 vai avanti, fai, 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 no, no, fermarsi. Fare un respiro e processare la morte. Perché è importante secondo me? Perché andarsene da Facebook è una piccola morte. Vabbè i francesi chiamano la petit mot, la piccola morte è un'altra cosa, no, dicono quando fanno l'amore bene, poi c'è il momento, il momento topico, loro lo chiamano, quando poi alla fine del fare l'amore bene, la chiamano la petit mot, ma va a sapere perché, ci sarà una connessione. Il coraggio di andarsene, l'accettare di andarsene, il coraggio di non essere più vivi in un posto e forse il capire che poi diventiamo vivi ad un altro posto, però guardarlo in faccia, perché altrimenti si può correre il rischio di continuare a fare delle scelte automatiche perché pensare a quel concetto, la filosofia di quel concetto, o il momento di quel concetto che non possiamo, come esseri umani, vivi, con un corpo fisiologico, biologico, vivo, non possiamo fare finta che non accada. Non possiamo dire, no, io non muoio. E perché racconto quella cosa lì? Perché mi sono accorto che quando ho deciso di lasciare Facebook, che accade questa notte, domani, in poche ore, comunque insomma, al più mi vedrete ancora per un giorno, te, poi mi vedrete su altri posti, che adesso vi dico, ma insomma su Facebook non più. Io credo che per poter fare quello, forse mi serve parlare della morte, perché mi dà modo di capire, di processare, quel senso di perdita. Madonna, scusatemi, ogni tanto devo trovare le parole in italiano, faccio più fatica a trovare le parole in italiano che a trovarle in inglese. Quel senso di perdita, perché quando stai in un posto che hai amato, dove hai amato delle persone, con persone che abbiamo amato, che abbiamo avuto una relazione, che abbiamo avuto una storia, che ci sono stati degli scambi belli o brutti, non importa, erano vita. E questo senso credo che sia molto connesso alla relazione che noi abbiamo con Facebook e con ogni altro social media, anche quelli nuovi dove vado. Però quelli nuovi dove vado sono sconosciuti. Non lo so ancora bene com'è l'atmosfera, che ne so, di Telegram, o di Gab, o di Parler, che poi Parler in questo momento l'hanno fucilato, no? Jeff Bezos, l'ha strangolato, ritorna, Parler ritorna, però per il momento l'hanno censurato, eh? I bambini buoni. Quindi non so com'è, che tipo di atmosfera c'è su Gab, su Telegram, magari è ancora meglio, però in questo momento è sconosciuta. Facebook era conosciuto. Ci sono stato su per 14 anni, dal 2006, 14 o 15 anni, non lo so, adesso si perde il conto. E quello è conoscere un posto, quella familiarità. Eh, se decidi di andartene, ci devi pensare bene. E io ci ho pensato bene. E ho fatto questo parallelo col concetto della morte. Perché infatti muoio a Facebook. Un grande mentore, un mio grande mentore virtuale, Wayne Dyer, che ho conosciuto tra l'altro solamente una volta, a San Diego. Grande notte. No, che pensate, no? Grande notte, grande serata. Cioè, lui mi ha solamente firmato parecchi libri che io mi sono portato, dei suoi. Grande uomo. Mi è piaciuto tanto Wayne Dyer, molto dispiaciuto quando se l'è andato una sera di agosto, e ha lasciato la terra, ed è, credo forse, rinato da qualche altra parte. Non sono religioso, sono spirituale, e affronterò i concetti di religiosità e spiritualità nei miei prossimi speech, nei miei prossimi talks, che molto probabilmente saranno in inglese, perché credo sinceramente di essere molto più intelligente in lingua inglese che in lingua italiana. Wayne Dyer diceva, quando nasciamo, andiamo, e funziona solamente in inglese, quindi ve la dico in inglese, andiamo, andiamo da nowhere, che vuol dire da nessuna parte, nowhere, to, a, now, here, che si scrive nella stessa maniera, ma andiamo da nessuna parte al qui e ora. In inglese suona benissimo, in italiano, na cacca. We go from nowhere, to, now, here. Ok? Now, here, qui e ora. E io la spingo un attimino più lontana e dico, e forse quando moriamo, andiamo da now, here, qui e ora, to, a, nowhere, da nessuna parte. In italiano si traduisce così, ma in inglese suona più carino, nowhere. E mi sono chiesto, cos'è nowhere? Che cos'è da nessuna parte? Io mi sono dato una risposta, e mi sono detto, nowhere, da nessuna parte, è un nome. È un nome che gli diamo. Poi le religioni gli daranno altri nomi, a seconda delle religioni ci sono diverse credenze, e io non ci entro, perché, come voi, non lo so che cos'è nowhere, forse è ancora meglio, non me lo ricordo. Perché se sono arrivato da nowhere potrei anche ricordarmelo. Tanti se lo ricordano, io, come voi, tanti di voi, non me lo ricordo. Però ho pensato, nowhere è una parola. Quello che conta è il posto. Come, che cosa sentiremo, che cosa proveremo, che cosa ascolteremo, che cosa vedremo, in quel posto? E quello che conta ancora di più, forse, è la coscienza. Che tipo di coscienza avrò, in quel posto? Che tipo di coscienza avevo, in quel posto, prima di diventare, qui e ora, Guido Furlani, con un corpo fisico, biologico, boh. Come facciamo a non farcela nei pantaloni, quando pensiamo di ritornare? Nowhere. Alcuni chiamano casa, come E.T. Casa. Perché siamo venuti da là. Poi, facciamo un po' di idee, ci mettiamo tutto questo bel vestito, no? Che chiamiamo il nostro corpo, la vita fisiologica, e un giorno, ce ne dobbiamo riandare. Per controllare, per gestire la paura che può arrivare da quello, io credo che dobbiamo sviluppare il coraggio. E quindi faccio questo parallelo, che magari sembra stupido, magari dici, ma che cacchio dici, no? Ma dice, lasciare Facebook è la morte, è la connessione con la morte, ma credo che la connessione sia il coraggio di seguire il nostro cuore, di seguire le nostre credenze, di seguire ancora più importanti i nostri valori. Ed è anche essere pronti a morire per i nostri valori. Questa volta, però, colpo di culo, muoio a Facebook, ma rinasco da un'altra parte. E la chiudo qui, perché poi non serve dilungarla. Vi troverete su Gab, su Telegram, a volte compaio come guide furlani, a volte magari sottomentite spoglie, in quel caso cercate un'aquila, cercate la parola libertà, freedom, cercate una parola guide, la guida, cose così. Invece, i miei canali di dialogo, che cominceranno molto presto, molto probabilmente in inglese, scusatemi, mi riesce meglio forse in inglese, se poi capita, li faccio anche in italiano. Sto aprendo due canali, due canali video, su Libri, Libri.tv, L-B-R-Y.tv. Uno è, in inglese, ho comprato già i domini, poi devo solamente aprire i canali, su Libri.tv, presto, uno è The Philosophy of Coaching, La Filosofia del Coaching. Quello sarà un canale, specifico per, diciamo, professionisti, dove comincerò a parlare della filosofia del coaching, parlerò della, della filosofia esistenziale, che secondo me è fondamentale, parlerò dei mindset, le forme mentis, come si dice in latino, la forma mentis, che ci vuole per fare il coaching potente, a livello ACC e PCC, ACC e PCC, di cui sono un, un mentore dell'ICF, la Federazione Internazionale Coaching. L'altro canale, sempre su Libri.tv, punto tv, sarà invece, chiamato, The School of Thinking, School of Thinking, dot CA. This is, questo è, thephilosophyofcoaching.com e quest'altro canale è, School of Thinking, la scuola del pensare, o la scuola del pensante, dot CA. Questo canale, invece, sarà un canale più liberale, dove affronterò, tematiche, anche attuali, quello che stiamo vivendo, come porci di fronte alle sfide che abbiamo di fronte, come fare a rimanere ispirati, positivi, speranzosi, come fare ad avere una visione quando alcune forze stanno cercando di togliercela a quella visione, stanno cercando di togliercela a quella speranza, stanno facendo di tutto per farci meno umani di quello che siamo. Ecco, sulla scuola del pensare, su School of Thinking, affronterò queste tematiche. Qualcuno che mi è molto caro, del quale potete vedere un video sulla mia pagina Facebook, ancora per poche ore, prima che va giù, è Robert Fitzgerald Kennedy, RFK, Junior, il figlio di Bob Kennedy, che uccisero nel, assassinarono nel 69. Amo i Kennedy, profondamente. E Robert fa un discorso di 15-20 minuti, bellissimo, sulla libertà di espressione, sulla libertà di pensiero, sulla libertà di parole, e tutte le libertà che il primo emendamento americano della Costituzione, protegge. Parlo di Robert Fitzgerald Kennedy, perché credo che la School of Thinking avrà tante di quelle nozioni di cui lui parla in questo video. Molto bello, che non potrei nemmeno provare a ripetere, che lui presenta in una maniera bellissima. Buono. Queste sono le due direzioni nelle quali vado. Amici miei, il video è diventato lunghissimo, non sono molto veloce in italiano a parlare. Apparentemente. Ci vediamo. Ci vediamo dall'altra parte. Se volete raggiungermi via email, mi potete trovare a guide chiocciola white eagle coaching punto com. quello è il mio sito professionale, probabilmente molto presto nasceranno anche guide chiocciola philosophy of coaching punto com e guide chiocciola school of thinking punto ca dot ca come Canada. grazie a presto ci vediamo di là dall'altra parte qui qui è bene chiocciola